Allora Lorenzina guarda ti rispiego il test perché c'è stato un problema con le applicazioni ok allora guarda allora tu ci hai messo che hai 38 anni e sei alta a metro e sessanta allora come vedi ci sono delle sfere degli orologi nella prima parte nel primo orologio ci sono le lancette la lancetta deve andare per essere nei valori ottimali deve stare nel segmento quello verde a te invece è su quello rosso infatti il peso attuale ti dà 67 kg quando invece come peso ideale ti dà una diecina di chili di meno ok il secondo orologio ti indica la massa grassa attuale allora la massa grassa considera che tu c'hai un 33% quando il valore di quello sano è il 23 quindi c'hai all'incirca un 10% in più questo perché perché probabilmente l'alimentazione che segui non è adeguata è ricca dei zuccheri dei carboidrati e questo fa sì che la persona tende ad assimilare grasso considerando che poi dopo ho ascoltato anche l'audio mi hai detto che due volte a settimana insegni ma giustamente insegnando non è come quando uno si allena no e di conseguenza non è che te faccia tutta questa grande differenza il terzo orologio ti indica il grasso viscerale attuale al momento sei a un 6 in un 6,13 per cento quando il valore ottimale è un 2 per cento calcola vedi la lancetta la lancetta non è sul rosso però è al limite della gialla arancione quindi significa che senso oggetto che tendi a sviluppare grasso viscerale e quindi devi fare attenzioni allora il grasso viscerale è un grasso pericoloso dove cresce crea una grossa infiammazione e soprattutto cresce intorno agli organi si sviluppa intorno agli organi principali cuore fegato polmoni intestino come vedi in questa figura la parte sinistra dello schermo ti fa vedere un intestino sano mentre la parte destra dello schermo ti fa vedere un intestino che c'è grasso viscerale quindi è ovvio che l'intestino che è cosparso di grasso viscerale non avrà una funzionalità ottimale rispetto a un intestino sano che non c'è nessun tipo di grasso ma questo avviene non solo per l'intestino questo tipo di grasso che hai visto sull'immagine avviene anche su tutti gli altri organi principali quindi il cuore il fegate anche i polmoni questo è un valore che devi tenere sotto controllo perché tendi a svilupparlo poi abbiamo la massa muscolare attuale allora la massa muscolare te l'hai un po giocata nel senso che c'hai un 63% quando invece dovresti avere un 72% quindi considera che ti sei giocata 9,40% questo che significa che quando noi facciamo anche attività fisica ma non assumiamo la quantità di proteine dell'alimentazione che a noi ci servono andiamo a perdere massa muscolare perché perché il corpo deve comunque a fine allenamento ripristinare la massa muscolare che ha perso durante l'allenamento quindi che si è sfilata deve ricostituire e quindi cosa fa se non trova attraverso l'alimentazione le proteine subito disponibili le va a mangiare nei muscoli e occhio perché è tu e già da un po che te stai mangiando i muscoli la valutazione fisica ti dà una valutazione 2 ma non che sei obesa intendi però ti dice che c'hai grasso vecchio di deposito quindi il grasso quello che è un po spugnoso e andrebbe tolto l'idratazione va bene perché considera 6 a un 47,3% e i valori ottimali devono stare tra il 45 e il 60% infatti se tu vedi la colonna questa grigia indica i tuoi valori e l'altra quella che è di due colori celeste verde indica la colonna di riferimento infatti se tu vedi la tua colonna sta più sulla parte verde dove l'idratazione va bene l'età metabolica ti dà simile a una persona intorno ai 53 anni ma cos'è l'età metabolica antespaventare l'età metabolica è l'età biologica del corpo significa è la velocità con la quale le cellule si riproducono siccome ti dà che ci sono dei valori da rimettere a posto ovviamente è ovvio che l'età la riproduzione delle cellule è più lenta inoltre abbiamo il metabolismo basale il metabolismo basale bruci a riposo 1408 calorie sono le calorie che ci servono per rimanere in vita più è alto il metabolismo basale meno prendiamo peso ovvero se facciamo qualche stravizio non non succede nulla quindi non aumentiamo di peso sotto il valore più importante è il fattore proteico ovvero i grammi di proteine che servono al tuo organismo per ripristinare e mantenere la massa muscolare perché perché con l'attività fisica tu tonifichi il muscolo ma per aumentare la massa muscolare devi introdurre proteine e a te te ne servono 87 grammi al giorno che significa che se tu stasera dici cinzia ma detto così me mangio una bistecca da 200 grammi non è che tu vai ad assimilare il fabbisogno che serve a te giornaliero perché il nostro corpo riesce su ogni pasto proteico a sintetizzare al massimo 25 grammi di proteine per pasto quindi le proteine vanno diluite durante tutti i cinque pasti che è la colazione lo spuntino a metà mattina il pranzo la merenda e la cena e quando uno non riesce a garantire attraverso l'alimentazione il quantitativo che serve il consiglio mio sempre spassionato è quello comunque di integrare quello che manca qui ti fa vedere la stima del grasso tu sei la seconda donnina quella partendo dallo schermo da sinistra andando verso destra col 33 per cento di grasso qui ti fa vedere che facendo la colazione equilibrata herbalife aggiungendo proteine prima degli allenamenti per agosto arriveresti al livello ottimale di grasso che è quello dell'otto per cento sotto troviamo anche l'evoluzione delle misure antopometriche che significa ti dice in basse all'algoritmo in basse ai valori che sta analizzando e ai dati che hai messo tu dentro come sarà se c'è questo rischio nel tuo caso la colonna è sempre quella grigia ti fa vedere che il rischio c'è negli anni di poterle sviluppare perché già adesso benché fattività fisica tendi ad aumentare il grasso viscerale un valore invece che va molto bene quello della densità ossea tu hai due chili e 340 grammi di massa ossea e se tu vedi con la colonna di riferimento se proprio nella parte sana quindi va benissimo inoltre ti fa vedere il trend del peso ti dice che se a 38 anni oggi pesi 67 kg in base se non cambi abitudini alimentari non non intensifichi magari l'attività fisica e non poni rimedio alle abitudini tra cinque anni il tuo peso arriverà a 69 ovviamente questi sono algoritmi però solitamente ci beccano qui invece vediamo il rapporto grasso muscolo tu sei l'immagine al centro quella al 33 per cento di grasso e ti dice che se aumenti la massa muscolare quindi facendo un buon apporto di proteine l'obiettivo è arrivare al 23 per cento e avere la fisicità che tu vedi sulla sulla donna praticamente alla destra dello schermo quindi lorenzina ecco i dati grasso modo sono questi e ovviamente magari ho messo fatta un quadro migliore sentendo l'audio che mi hai mandato in base all'attività fisica al poco tempo anche per preparare la roba al poco tempo perché uno c'ha la casa al lavoro i figli e tutto quanto se vuoi maggiori informazioni se vuoi ripristinare soprattutto la massa muscolare attraverso l'integrazione attraverso l'utilizzo delle proteine e robe varie mi puoi contattare tranquillamente su whatsapp senza nessun problema inoltre visto che mi hai mandato delle referenze alle quali far fare il test l'unica gentilezza che ti chiedo è quello di avvisarle che gli hai dato che hai fatto il loro nome e che riceveranno un test di valutazione corporea perché se io io lo mando e non sanno niente magari dicono questa questa chi è quindi se me fai la gentilezza che nel giro del giorno due me le avverti così io poi gli mando i test ok te ringrazio e se vuoi ci sentiamo domani un bacio quindi